Fere, in che mostro ti sei trasformata questa volta? Sei bruttissima! No, no, Steph, scusa, non è che ti vorrei spaventare, però non sono io. Fere, certo che sei tu, ti trasformi ogni volta in qualche mostro! No, però io sono dietro di te, Steph, girati! Ah, sei normale oggi? Io sono qua, sì, sono normale, con chi stai parlando? Fere, allora chi è lui? In che mappa mi hai portato, Fere, quest'oggi? Molto terrificante, Steph. Mi devi delle spiegazioni, vero? E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki! E io sono Steph, che si chiama Minecraft! E oggi, Steph, ti ho portato nel labirinto del terrore! Labirinto del terrore! Sì, sai com'è? Mi sento in vena, perché in questo periodo mi hai fatto tanti dispetti, tante cose che non mi piacciono, che sono sempre antipatico nei miei confronti, quindi ho deciso di non vendicarmi, ma di farti questa cosa, di portarti in un labirinto davvero terrificante! Sì, ma tu nel labirinto devi entrare, quindi ti stai facendo un dispetto da sola? No, io non entro, Steph, io ti guardo da fuori! No, 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 i consolini non accettano queste cose, Fere, si entra sempre in due! Perché non ti posso picchiare in questa volta? Perché è un lavoro di squadra, questo! È già brutta, è già brutta, se non ti posso picchiare, va bene! L'hai scelta tu, l'hai scelta tu, Fere! Lo so, l'ho scelta io! In ogni caso, siamo nel labirinto, credo, più difficile di sempre, perché non solo sarà un labirinto da finire, ma allo stesso tempo ci saranno mostri che sponano ovunque e ci saranno anche dei mostri modificati, quindi dei mostri non di vanilla, che ci complicheranno tanto le cose, tra cui dei vampiri, perché sì, l'unica cosa che ho visto è che ci sono i vampiri in questa mappa e sono preoccupato! Sono i più cattivi, Steph, assolutamente, ti distruggono! Allora, clicca join players, Fere! E iniziamo! Guardate come si genera tutto, guardate! Quindi penso che ogni volta che giochiamo in labirinto sarà pure diverso, quindi non puoi memorizzare la strada! È sempre diverso! Ed è gigante! Questa cosa mi piace un sacco! Allora, Fere! No, aspetta, Steph! Dimmi! Io sono sola! No, sono indietro di te! No, non è vero, non ti vedo! Fere, sono qua! Ti giuro che non ti vedo, ti sei già trasformato in un fantasma! No, Fere, guarda, sono tranquillo, bellino, qua di fronte a te! Siamo al buio, siamo equipaggiati con un'armatura di ferro, una spada e un arco, abbiamo un po' di cibo... Non basterà, Steph, non basterà! E dobbiamo andare! Allora, consigli inizierà poco... Ti sei accorto di quello che è successo? Sono caduti degli spuntoni dall'alto? Li vedi? Guarda in alto, li vedi? Quelli cascano! Li vedi tanto? Oh mio Dio! Allora, corro, corro! Io ti stavo seguendo allegramente, mi sono messo a queste cose cadere di fronte! Cioè, aiuto! Io sapevo che c'erano dei mostri che arrivano all'improvviso da delle tombe, c'è di tutto... Ma le trappole non me le aspettavo! Vabbè, Fere, continuiamo! Iniziamo bene, Steph! Allora, qua c'è una cesta, qua c'è una cesta, vediamo... Ok, aprila! Fammi vedere un pochettino... Ok, attenzione! E mi ha dato 12 di pane! Ok, grazie, perfetto, perfetto! Abbiamo due strade... Ok... Sinistra o destra? Eh, non lo so, sei già andato? No, andiamo a destra, qua! Ok, vai! Vieni, andiamo! Allora, attento, guarda di nuovo sopra! Ok, ci sono di nuovo trappole, aspetta che faccio la finta! Uh! Uh! Ok! Ok, non è andata! Aspetta, perché ci sono anche queste... Oh, mamma mia! Ok, possiamo andare! Io so già che succede, eccoli qua, eccoli qua! Picchiali mentre escono, picchiali mentre escono! Picchiali, picchiali, vai! Dannazione! Mentre escono non gli puoi fare danno, è difficilissimo! Ho notato! Ok! Questo è un problema! Fer, c'è un altro problema! Allora, le possiamo rompere queste? Che cosa? Eh, le tombe? Non lo so, non credo, non credo, Steph, che tu le possa rompere! Ci sono chiaramente degli zombie in giro, non so bene dove... Ok! Ma ci sono zombie in giro! Ok! Praticamente lì c'era una barra del vampiro che abbiamo totalmente saltato perché non lo voglio affrontare! Ho paura! È quasi mortale, Steph, è difficilissimo da affrontare! Dove stiamo finendo? Mi sembra tutto fin troppo tranquillo, non sembra anche a te! Lo so, perché forse è un piccolo cieco? No! No, 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 continua, continua! Continuiamo, continuiamo! Pensavo fosse un piccolo cieco che avessimo sbagliato strada! Sì, però ripeto, è tutto fin troppo tranquillo! Fer, va bene così! Aspetta, aspetta! Ecco, 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 hai visto? No, Steph? Found a chi mi ha detto? Steph, è un vampiro dietro! Cosa? Steph, aiuto! Aiuto, che sono troppi! Picchiali! Che hanno fatto un assalto! Ah, abbiamo anche tre vite! Quindi tre vite limitate, io ne ho già persa una, Steph! Ok, il vampiro è allo stesso, Fere! Aspetta che torno! E ma dove sei? Troppo tardi! Ah, ecco, per fortuna torno vicino a te, che bello! Allora, ti stavo dicendo che mi ha detto che ho trovato... Che hai trovato una chiave! Una chiave di due! Ok! Non dirmi che per uscire ci servirà anche la chiave, Steph! A quanto pare sia, credo che sia fatta come questa! Quindi dobbiamo continuare ad andare avanti! Vabbè, mi hai trovato una, quindi è già qualcosa, e speriamo di trovare poi la seconda! Azzecco sempre le strade, che c'è? Cioè, davvero non le hai viste? Davvero sei andato dritto? Sì! Cioè, nel momento in cui ti urlo attento, tu continui ad andare dritto! Per altri cinque! Per i vampiri! Vedete! Dove? Aiuto! Aiuto, aspetta! Picchiamolo! Ok! Ok! Ok, guardate quanto è forte, Consolini! Guardate quanto è forte! In due abbiamo difficoltà a ucciderlo! Però, dietro le bare di questi vampiri, c'è sempre un tesoro! C'è sempre un tesoro! Ok! Mi ha dato altri dodici di pane, ma me li sto dando, perché io ne ho sempre sedici! Non mi sembra funzionare molto bene sta cosa! Vabbè, tu prendi, le fai finta di nulla! Vabbè, mi mangio una pagnottina! Bellissima la bara, comunque, è davvero strabella! Cioè, la vorrei troppo, è bellissima! Lo so, lo so! È un po' inquietante, però è bella, è fatto bene! Attenta! Ah! Ecco! Aspetta, aspetta, un arco anch'io! No, c'è pure un vampiro! Ma questo mi corre addosso! Allora, io penso al vampiro, tu pensa a scheletri e zombie! Ok! Aiuto! Aiuto! No, Steph, è troppo difficile adesso! Fere, muoviti, ammazzameli! Devo cambiare con la spada! Ok, io quello l'ho ammazzato! Ok, ho ammazzato anche gli zombie, sto arrivando! Dimmi che non ci sono altri scheletri! No, è pieno di scheletri, Steph, è pieno! Sono loro il problema, qua! Esatto! Ah! Però c'è un problema, qua c'è uno spawn di scheletri! Aiuto, aiuto! Una sorta di tomba di scheletri! Come facciamo? Non lo so! Come facciamo? È difficilissimo! Se si basta di vita, scappa! Ok! Aiuto! Ma mi corre addosso! Cioè, sono pazzi, Steph! Questi corrono! Dannazione! Non si limitano a sparare, corrono! Ok, allora, mangia! Mangia, 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 mangia! Io vado in avanti, dato che sono di nuovo con la vita piena! Vado, 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 vado! No, dai, non ci credo! No, sei troppo impavido! Non è possibile! Non è possibile, scappo! Nonno, come facciamo? Non lo so! Non possiamo passare da qui, non possiamo! Stanno continuando a tornare in vita! Allora, io mangio rapidamente e c'è uno spawner qua sotto! Secondo me dobbiamo continuare a correre, Fere! Ok, vai! Vai, 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 verso un'altra direzione! Ok, sfido questi due! Ok, perfetto! Perfetto, l'attacco doppio così! Li ho stesi senza subire danno! Bravo, Steph! Adesso mi sistemo anche questo zombie! Ok! Come si è messo? Sai cos'è l'unico problema? Che abbiamo lasciato indietro delle ceste! Eh, lo so, Steph, però non fa, non fa! Cioè, lì, non ho idea di come si possa distruggere uno spawn, capito? Allora, tu resta qui, non sprecare troppe frecce! Ok! Vado, apro le ceste e scappo! Ok! Io penso a questo zombie! Ok! Aiuto! Aiuto! Mi stanno facendo malissimo! Ci sei? Quasi! Devo prendere anche qui! Ok! No, sei troppo caraggioso, Steph! Sbettila che poi ci scappiamo! Scappa, scappa! Scappiamo! Allora, io qua ho visto qualcosa di strano! Lo vedi? Sì, aspetta, stai ferma, stai ferma, stai ferma! Devo recuperare i cuori! Allora, mi hanno dato un sacco di pagnotte, ho 48 di pagnotte! Eh, vabbè, io ne sono 14, quindi le dovremmo dividere! Posso aprire un panificio? Qua c'è la ceste, prendila! Ok! Allora, vediamo! Pensaci tu! Cos'hai trovato? Un health potion! Oh, bello! Questa è buona! Però, Steph, cos'è questa struttura? Beh, farello, dobbiamo scoprire! Cioè, ok, mi sembra un cimitero, perché è pieno di lapidi, però che cos'è di preciso? Adesso lo scopriremo! Non lo so! Ah, ma non possiamo entrare? Non possiamo entrare? No, secondo me l'entrata c'è, come? Ma noi ovviamente non abbiamo... Non abbiamo la... Aia! Da dove? Che l'ha preso, da dietro, Steph! Eh, no, vabbè, di nuovo! Ma poi quanto correte? Eh, l'hai visto quanto corrono? Devo stenderlo, devo stenderlo! Sono sempre arrabbiati! Ok, l'ho steso, aia! Ok, dobbiamo stare attenti! Ma quindi c'è uno spompio avanti, sì, c'è uno spompio avanti! No, di nuovo! Allora, io non ho visto un'entrata! Neanch'io! Allora, direi che per ora lasciamo perdere, anche perché non mi sembra che possiamo utilizzare delle chiavi o qualcosa del genere! Quindi magari una sezione del labirinto che dobbiamo raggiungere in un altro momento! Ok, ok! Lasciamo perdere! Allora, proseguiamo! Cibo sei piena, sì? No! Ok! Mangio! Autosistemati! Allora, io inizio a far attrivare le trappole qui! Uno! Due! Ok, perfetto! E dobbiamo correre di nuovo, eh! Eh, lo so! Io corro, io corro, perché qua non fa stare! Non fa stare! Ok, li sto sistemando per bene, Ferre, ci penso io! Bravissimo! Ci penso io! Ci aiuto! No, arriva che va il vampiro! Oh, no, il vampiro! Il vampiro no! Oh, uno di vita, Ferre! Difendimi! 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 Non cercare, Steph! Girati e prendimi! Difendimi! Non c'era con te, Steph! Aiuto! Ma non c'era modo di distrarlo, ma siamo pazzi qui! Ok! Ferre, tieni! Che ansia! Ho trovato un'altra health potion, una testa! Grazie! Dobbiamo ricordare di usarle, però! Io ho rischiato tantissimo e non lo stavo usando! Vabbè, io finché ho cibo e ho attimi di tregua, diciamo che sfrutto quello, piuttosto che di precare una pozione! Eh, lo so, ma in quei momenti fidati che una pozione potrebbe fare davvero comodo! Ferre, forse abbiamo trovato la seconda chiave! Ok! Forse abbiamo trovato la seconda chiave! Davvero? Sì, però non devi morirmi, eh! Ok, non muoio! Concentrata! Non muoio! Bravissima con quelle botte! Vai, continua, Ferre! Continua con quelle botte fortissime! Vai, Ferre! Spacca tutto! Ferre, aiuto, c'è una cesta strana lì dietro! È quella della chiave, Ferre! Ah, è quella? Sì! Mi stanno facendo malissimo, mi devi aiutare! Ci pensi tu? No, mi devi aiutare! Ok! Aspetta, aiuto! Ok, ho preso quello che spara le frecce! E muori, accidenti a te! Eh, va bene, sta arrivando un altro! Non è possibile! Non ce la faccio! Non ce la faccio ad andare fino a... Sì, sì, sì! Sto mangiando e arrivo! Vai, tranquilla, tranquilla! Sto mangiando e arrivo! Ok, così! Ok, ti copro le spalle, vai! Vai! Ok! All look at the boss room! No, no, Steph! Allora, questo... C'è pure un boss? No, Steph! Allora, guardami in faccia! Guardami bene! È questo il momento di chiudere il gioco e di andarcene, basta! Perché io non voglio fare nessuna boss room, ok? Secondo me era quella di prima! Eh, non la voglio fare! È quello il problema, Steph! Io non la voglio fare! Andiamo! No, non torniamo indietro, Steph! Andiamo avanti! Andiamo, Ferre! Steph, non si va mai indietro nei labirinti! Si va sempre avanti! Andiamo, Ferre! Io non combatto, eh, te lo dico! Dai, magari non è quella! Magari sei fortunata e non... Cosa c'è? 200 scheletri! Ok! Buongiorno! Allora, fammi recuperare i cuori qui e poi mi bussano! Sì! Tranquilla, non c'è nessuno, tanto! Faccio un party di mostri, ok? Ok! 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 Estenuante! Ce n'è un altro! Io sono basso! Fuori! Basta! Ok, aspetta che mi devo curare, eh! Vabbè, per ora è arrivato uno zombie! Salve, zombie! Sei tu il boss? Sì, Ferre, tu stai ad arco e io vado a spada! Ok? No! Spider Queen! No, ti prego! Poi floro uno! Quanti piani ci sono? Esatto! Io ho letto quello e mi sono spaventato! Ok! Vado di frecce! Ferre! No, è impossibile! Non vedo più nulla! È impossibile! Non vedo niente! Fa malissimo! Amate i figli! Mi hanno avvelenato! Amate! Non vedo niente! I figli li ho ammazzati! Oh, oh! Ferre, aiutami! Usa l'Alt Potion se si basta, eh! Ok! Ok! No, ho troppa paura! Ho paura! Vedo tutto nero! No, Ferre! No, 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 devo scappare! No, no, stare in un angolo! Lasciami in pace! Lasciami in pace! Ok! Health Potion! Health Potion! Vai! Vai attenta! Ok! Ok! Ok, io continuo a picchiartelo! Ferre, devo mangiare! Aiutami un attimino! Sono qui ci muoio perché ce l'avevo sempre addosso io! Mi hanno avvelenato di nuovo! Oh, non vedo niente! Non vedo niente! Health Potion! È troppo veloce! Sono morto! Ok! Dove sei? Ok, sono tornato! Sono tornato! Sono girando in tondo! Ok, ok, ok! Arriva, arriva, arriva! Sono avvelenata! Sono cattivissimi! Bisogna uscire i figlioletti! Tu pensi figli? Io penso a picchiare il boss! Ok! E continuo a correre! Perché tanto ce l'ha solo con te! Non so perché l'hai fatto arrabbiare sto boss! Ma non lo so! Ok! Ferre lo sto massacrando! Sai perché, Steph? Dimmi! Perché io sono una queen! Quindi tra queen bisogna litigare, Steph! Ah, beh, hai ragione! È per quello! È assolutamente quello il motivo! Non vedo niente! Aiuto! Ok, io sono praticamente morta, Steph! No, 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 no! Potrebbe abbandonarti, te lo dico! Eh, io credo di rimorire, lo sai? Gli lancio un po' di frecce! Ce l'ho fatta! Le mie frecce sono servite a qualcosa! Comunque, io pensavo che il labirinto fosse quello e bisognasse uscire! E invece dice, benvenuti al piano 2! Quindi non è finito! Avevo mezzo cuore, Ferre! Eh, anch'io ne avevo tipo un e mezzo, ero messa male! Ok! Allora, abbiamo anche lo stesso equipaggiamento? Sì! Non c'è neanche ridato tipo un health potion come premio, ho notato! Cioè, non è servita molto! Almeno il boss un premio te lo può dare! Sì, scusami, qualcosina per incoraggiamento! Eh, scusa! Anche perché... Mi devo un attimino riprendere, è stato davvero tosta! Abbiamo pure le stesse vite! Sì, ho notato, quindi... E teoricamente il secondo piano è più difficile! Eh sì! Io non voglio continuare a fare... Eh, no, è molto complicato! Mi voglio fermare qua, preferisco fermarmi qua! Abbiamo completato il primo piano, una sola morte a testa che comunque è buona, abbiamo sconfitto un boss, tantissimi problemi, tantissime cose, direi di stare così e io non voglio neanche vedere cosa c'è! Io volevo giusto spiare, capito? Giusto una sbirciatina perché comunque la curiosità è sempre gigante, cambia qualcosa! No, vedo già delle tombe, vedo già cose strane! Secondo me non penso che cambi, però sicuramente ci saranno molti più mostri! Il boss sarà più forte! Magari il boss sarà diverso! Sì, 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 sì! Quindi sì, ci sono tante cose interessanti da scoprire! Lo so, lo so, non sarà per nulla semplice! Beh ragazzi, se lì è così è tutto, lasciateci un like! E se è provato a capire il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!